alla premiazione manca colui il quale deve premiare arriva, abbiamo scendito eccolo qua, Guadagnini ecco chi è arrivato grazie, grazie mille premiazione ok, Francesca che è ovvio, seconda, terza di casa ma dove ecco anche presidenza nel momento di un'esistenza la seconda, esiste anche una vince che vuoi cominciare la valla di capire che è stata una miliara, quella è con la valla di capire di taglia, Francesca Carcellazio mamma quanti medaglie, quanti medaglie la storia grazie a tutti 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 grazie a tutti